E' una settimana che in pratica stanno colpendo a Raffica, quindi la preoccupazione c'è sicuramente. La frazione di Castelnuovo di Subbiano in provincia di Arezzo è finita nuovamente nelle mire dei ladri. I cittadini, forse esasperati ma soprattutto preoccupati, si sono così improvvisati detective con tanto di video pubblicato sui social network. Nei giorni scorsi nella frazione si è infatti registrata una lunga scia di furti tra tentati e consumati. In un caso addirittura in una sola settimana un'abitazione è stata visitata per ben due volte. Hanno rubato questa signora in questa casa qui di fronte, poi si sono fatti un altro paio di appartamenti sempre qua dietro e sono nella collinetta. In pochissimi giorni? Questo nel giro di una settimana. L'hanno portato via? So che da quello che ho sentito dire hanno preso oggetti in oro, qualche soldo. Resta così adesso la paura e su Facebook ha fatto la sua apparizione questo video. Si tratta di immagini immortalate da una telecamera di video sorveglianza privata nella quale si notano tre persone che si aggirano con fare sospetto tra le abitazioni. In quelle ore non sarebbe però stato messo a segno alcun furto ma potrebbe comunque trattarsi di un sopralluogo. Se chiaramente si fa quello possibile. C'è ovviamente massima cautela da parte degli inquirenti. Il video è comunque a disposizione dei carabinieri che stanno portando avanti le indagini.